A Paternò torna la tradizionale fiera di settembre. L'edizione 2023 della manifestazione, che rappresenta uno dei maggiori eventi della cittadina etnea, è in programma dall'1 al 10 settembre a Villa Moncada. Per dieci giorni il parco, considerato il polmone verde di Paternò, ospiterà una grande area Luna Park e molti spettacoli. Ovviamente non mancheranno le consuete esposizioni d'agricoltura e gli stand dedicati all'artigianato, al commercio, ai prodotti tipici, alla gastronomia, agli articoli per la casa e il tempo libero. A firmare l'organizzazione Etneventi Management. La fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24. Rappresenta la storia di Paternò, la fiera di settembre, dell'artigianato, dell'agricoltura, turismo, spettacolo. Devo ringraziare per il sesto anno consecutivo la famiglia D'Agata, Etneventi Management, che veramente hanno organizzato insieme all'amministrazione comunale, alla Proloquo e alle associazioni questo importante evento a Paternò. La inaugureremo l'1 settembre alle ore 18.30 nel nostro giardino pubblico, nella nostra meravigliosa Villa Mongata. Quest'anno sarà inaugurata dalla seconda carica dello Stato, dal Presidente del Senato, dal senatore Ignacio La Russa, ma ci saranno tante istituzioni presenti. Questo ci ingoraggia e ci dà veramente l'input per andare avanti e migliorarla ancora di più. Certi della buona riuscita, invitiamo tutta la città, i nostri cittadini a partecipare. Ci saranno spettacoli, tanti artigiani, tanti commercianti a gustarsi questi dieci giorni, perché la sera di settembre in sera dall'1 faremo l'inaugurazione, fino al 10. Un momento come poter stare tutti quanti insieme nella nostra, come dicevo prima, Villa Mongata. Come ogni anno ci saranno tanti stand, un'ambiaria Luna Park, un'ambiaria gastronomica, spettacoli tutte le sere, con vari artisti, fra cui anche Carmelo Caccamo, Giuseppe Castiglia, Rosario Di Stefano, e poi delle belle cover band, tipo quella dei Poo, quella di Gianna Nannini, quella di Battiato, cioè diciamo una bella manifestazione. Sarà aperta tutti i giorni dall'1 al 10 settembre, dalle 17 alle 24 e gli spettacoli saranno fatti la sera dopo le ore 20.